Il primo video si è rotto, non mi ricordo neanche il perché, ho provato a farlo ben due volte, ma poi io, pensandoci bene, mi sono andato a prendere quel bene che vi dicevo dove ho notato cose che non mi piacevole. E quindi partiamo su questo. Ho scelto alcuni dei vostri beni che mi sono subito saltati all'attenzione. Chioi Art, ciao. Rettile 30, rettile anch'io desidero. Bene, ciao. Leona Gnocci, ciao. Leona. Ah, parentesi, credo che molti dopo ieri si saranno disiscritti. Se così non è, perché questo appunto l'ho presi qualche giorno fa, e se sei qui, vi fa piacere sconarvi. Dallas Club, poi Mezzo Cocco, poi Cocco, io, Salvatore Albolino, oh no. Le due E, è un saluto alle tre S.E. di Milano, oh no. Gregorio Indelicato, oh no. Io commento sempre. Giorgio Armani, a Arbene, piccolo. Poi, ciao Buck, Buck Deagle, ciao. Poi, semplicemente, l'interpunzione un punto, un punto. Ve lo faccio vedere, eccolo lì. Quindi saluto te, proprio te, amico. Io il cane lo possiamo far vedere un po'. Eccolo lì. Ciao, Enrico, Enrico. E ciao, amici del mio vicinato, che li sto vedendo alle prese. Prima con un calzo bianco, questa mattina con un meraviglioso calzo nero. Ciao. Poi, Anto, Anto, ciao, L grande, V grande, M, T, B, piccole. Poi, ancora non l'avevo fatto, ma perché non l'avevo fatto, non ho seguito attentamente i commenti. Un caro saluto ai francesi.